in Europa e non tutto il mondo che durerà 10 giorni, sarà dal 21 al 30 giugno, quindi questa è già la prima novità che vi do, primo appuntamento perché il secondo tra l'altro sarà il 19 novembre, un devoloso ringraziamento a Politi Toti ovviamente perché ci ospita in questa stremitosa sala del 1300, quindi un grosso applauso al Comune di Toti, come sempre ci è ormai da 4 anni aspusato il campo insieme a noi questo progetto dal 2009 che ci segue sempre a campo, quindi grazie a Politi Toti, un grazie doveroso, lo do a tutta la squadra della mia scuola e in particolare a Natalia e a Alisabetta che continuano con la mia scuola, Natalia è qua, tra l'altro Natalia sarà presente domenica prossima con il secondo appuntamento della tecnica, quindi vi raccomando, a via Santropenna domenica prossima dalle 14 15 fino alle 19 e 30, 4 ore insieme a lei, 3 ore di dura tecnica solo donna e poi l'ultima di coppia, quindi mi raccomando scrivetevi questo appuntamento domenica 28 ottobre la tecnica con Natalia. Non mi dilungo di più, è arrivato il momento di vedere la nostra esibizione, sono con noi là.